Liberty Bar di Giorgio Simenon Capitolo I. Il morto e le sue due donne La prima sensazione fu di essere in vacanza. Quando Maigre scese dal treno, la stazione di Antibia era inondata per metà da un sole così luminoso che la folla in movimento sembrava fatta di ombre, ombre munite di cappello di paglia, pantaloni bianchi e racchetta da tennis. C'era nell'aria come un ronzio confuso. Il marciapiede era fiancheggiato da palme e cactus e al di là della lampisteria si scorgeva un lembo di mare azzurro. Subito un uomo gli si fece incontro. Il commissario Maigre, immagino, l'ho riconosciuta perché ho visto la sua foto sul giornale. Ispettore Butig. Butig, un nome che sembrava uno scherzo. L'ispettore si era già impadronito delle valigie di Maigre e lo guidava verso il sottopassaggio. Indossava un abito grigio perla con un garofano rosso all'occhiello e scarpe con leghette. È la prima volta che viene ad Antibes? Asciugandosi il sudore, Maigre si sforzava di tenere dietro al suo cicerone, che sgusciava fra la gente passando davanti a tutti. Finalmente si trovò di fronte a una carrozza con il mantice di tela color crema e una frangia ad orna di pallini che oscillavano tutti intorno. Un'altra sensazione dimenticata. Il cigolio delle molle compresse, il colpo di frusta del vetturino, il rumore sordo degli zoccoli sull'asfalto molle. Prima di tutto andiamo a bere qualcosa, non dica di no. Senta, ci porti al Caffè Glacier. Era lì a due passi. Intanto l'ispettore cominciò a spiegare. Plasmassé, il centro di Antibes. La piazza era proprio graziosa, con un giardinetto al centro e delle tende da sole color crema o arancione a tutte le finestre. Boutique costrinse il commissario a sedersi a un tavolino all'aperto e a bere un pernò. Di fronte a loro c'era una vetrina di articoli sportivi, piena di costumi da bagno, accappatoi. A sinistra un negozio di apparecchiature fotografiche. Qualche bella macchina lungo il marciapiede. Un'atmosfera di vacanza, insomma. Vuol vedere prima le due donne in carcere o la casa del delitto? Maigret rispose senza pensare, come se gli avessero chiesto cosa voleva da bere. La casa del delitto. Le vacanze continuavano. Maigret fumava un sigaro che gli aveva offerto l'ispettore. Il cavallo trottava sul lungomare. A destra si scorgevano alcune ville nascoste fra i pini e a sinistra, oltre gli scogli, l'acqua azzurra dove spiccavano due o tre vele bianche. Le è chiara la topografia della zona? Alle nostre spalle c'è Antibes. Da qui comincia Cap d'Antibes, dove ci sono soltanto ville e molto lussuose. Maigret sentì con aria beata, guardando di sottecchi il fiore purpurio di Butigues. Tutto quel sole che sembrava entrargli nella testa lo stordiva. Ha detto Butigues, vero? Sì, sono di Nizza e sono nizzardo autentico. Un nizzardo puro sangue, insomma. Un nizzardo al quadrato, al cubo. Guardi da quella parte, vede quella villa bianca? È lì. Suo malgrado, Maigret aveva l'impressione che tutto ciò che lo circondava fosse solo un fondale di carta pesta. Non riusciva a immergersi in un clima di lavoro, a convincersi di essere lì a causa di un delitto. Eppure aveva ricevuto istruzioni piuttosto particolari. Un certo Brown è stato assassinato a Cab d'Antibes. I giornali ci ricamano sopra e sarebbe meglio evitare grane. Ricevuto. Durante la guerra Brown ha svolto degli incarichi per i servizi segreti. Ricevuto. Erano arrivati. La carrozza si fermò. Butigues tirò fuori dalla tasca una piccola chiave, aprì il cancello e si incamminò facendo scricchiolare la ghiaia del viale. Fra le ville di Cab d'Antibes è una delle meno belle. Non era niente male, però. Le mimose riempivano l'aria di un profumo dolciastro. Su certi alberi piccoli piccoli c'era ancora qualche arancia dorata, poi dei fiori strani che Megret non aveva mai visto. Di fronte c'è la villa di un maragia. Deve essere qui in questi giorni. Cinquecento metri più in là, sulla sinistra, ci abita un membro dell'Académie française e poco oltre quella famosa ballerina che sta con un lord inglese. Certo, certo. In realtà Megret aveva solo voglia di sedersi sulla panchina addossata al muro della villa e sonnecchiare per un'oretta. In effetti aveva viaggiato tutta la notte. Vorrei darle alcune informazioni indispensabili, così come mi vengono in mente. Frattanto Butigues aveva aperto la porta e i due entrarono nella frescura di un ampio ingresso con le vetrate che davano sul mare. Brown viveva qui da circa dieci anni. Lavorava? Non faceva niente. Doveva avere delle rendite. la gente diceva sempre Brown e le sue due donne. Due? In realtà solo una era la sua amante, la figlia, una certa Gina Martini. È stata arrestata? Sì, e anche la madre. Vivevano tutti e tre insieme, senza domestica. Lo si capiva subito guardando la casa, che quanto a pulizia lasciava molto a desiderare. Anche se in fondo era ben arredata e non mancavano mobili di valore e oggetti che avevano conosciuto il loro momento di splendore. Ma ovunque regnavano sporcizia e disordine. Troppi tappeti, troppi tessuti penzolanti qua e là o gettati sulle poltrone, troppa polvere dappertutto. Ed ecco i fatti. Brown aveva un garage proprio di fianco alla villa. Ci teneva la sua vecchia auto. Gli serviva soprattutto per andare a far la spesa ad Antib. Mmm, bofon che omegre, intendo a osservare l'acqua limpida e un pescatore di ricci che frugava il fondo con una canna. La macchina è rimasta in strada per ben tre giorni, anche di notte e la cosa è stata notata. Ma sa, qui tutti si fanno i fatti propri, nessuno si è preoccupato. Però lunedì sera... Un momento, oggi è giovedì, vero? Continui pure. Lunedì sera il macellaio stava rientrando col furgone quando ha visto partire la macchina. Avrà modo di leggere la sua deposizione. In un primo momento vedendola da dietro ha pensato che Brown fosse ubriaco perché sbandava in maniera spaventosa. Poi l'auto ha cominciato ad andare dritto. Tanto dritto che alla curva, a 300 metri da qui, è finita in pieno sugli scogli. Prima che il macellaio potesse intervenire ne sono scese due donne che, sentendo arrivare il furgone, si sono messe a correre verso la città. Avevano dei bagagli? Tre valigie. Era quasi buio, il macellaio non sapeva che cosa fare. Ha corso in plasma sé dove, come lei ha potuto vedere, c'è sempre un poliziotto di guardia. La gente si è messo subito alla ricerca delle due donne e alla fine le ha trovate mentre si dirigevano non verso la stazione di Antibes, ma verso quella di Golf Juan a 3 km. Sempre con le valigie? Di una si erano liberate lungo la strada. L'abbiamo trovata ieri in un boschetto di Tamerici. Alla vista del poliziotto le due donne sono state prese dall'agitazione. Hanno dichiarato che stavano andando a Lione a trovare una parente malata. La gente ha pensato di far loro aprire le valigie e ci ha trovato una gran quantità di titoli al portatore, alcuni biglietti da 100 franchi e oggetti vari. Intanto si era radunata molta gente. Era l'ora dell'aperitivo e tutti erano fuori. La folla ha accompagnato le due donne fino al commissariato e poi al carcere. La villa è stata perquisita? Il giorno dopo di primo mattino. All'inizio non hanno trovato nulla. Le due donne sostenevano di non sapere che cosa fosse successo a Brown. Finalmente verso mezzogiorno un giardiniere ha notato della terra smossa. Sotto uno strato di neppure 5 cm abbiamo trovato il cadavere di Brown, vestito di tutto punto. E le due donne? Hanno cambiato musica. Stando al loro racconto, venerdì scorso hanno visto arrivare la macchina e si sono stupite che lui non la mettesse in garage. Brown ha attraversato il giardino barcollando. Gina, credendolo ubriaco, gli ha urlato degli insulti dalla finestra. È caduto sulla scala esterna. Morto, ovviamente. Morto stecchito. Gli avevano dato una coltellata alla schiena, proprio in mezzo alle scapole. E loro hanno vissuto per tre giorni con il morto in casa? Proprio così e senza una spiegazione plausibile. Sostengono che Brown non sopportava la polizia e tutto ciò che ha a vedere con la legge. L'hanno seppellito e sono fuggite con il denaro e con gli oggetti più preziosi. Adesso è chiaro perché la macchina è rimasta in strada per tre giorni. Gina non sa guidare molto bene e la manovra per metterla in garage lo spaventava. Ma mi dica, c'era del sangue nell'auto? Neanche una goccia. Però le due donne giurano che sono state loro a pulirla. Non c'è altro? Nient'altro. Quelle due sono furibonde, chiedono di essere rilasciate. Fuori il cavallo si mise a nitrire. Magret non aveva voglia di fumare il sigaro fino in fondo, ma non osava buttarlo via. Un whisky? Propose boutique che aveva individuato un mobile bar. No, non c'era davvero aria di dramma. Magret si sforzava inutilmente di prendere le cose sul serio. Ma come era possibile con quel sole, le mimose, le arance e il pescatore che continuava a cercare i ricci nell'acqua limpida. Può lasciarmi le chiavi della villa? Ma certo, ormai è lei il responsabile dell'inchiesta. Magret vuotò il bicchiere di whisky che gli era stato offerto, gettò un'occhiata al disco che si trovava sul grammofono e accese la radio con un gesto meccanico. Sentì una voce che diceva, grano maturo, novembre. In quell'istante, proprio dietro la radio, vide una fotografia e la prese per guardarla da vicino. È lui? Sì, non l'ho mai visto quando era vivo ma lo riconosco. Magret spense la radio con un gesto che tradiva un'aliaverditazione. Dentro di lui era scattato qualcosa. L'interesse? Molto di più. Una sensazione confusa e anche piuttosto sgradevole. Fino a quel momento Brown era stato soltanto Brown, uno sconosciuto, quasi sicuramente uno straniero o morto in circostanze più o meno misteriose. Nessuno si era chiesto quali fossero stati da vivo i suoi pensieri, la sua mentalità o le sue sofferenze. E ora, guardando la fotografia, Magret si sentiva turbato perché aveva l'impressione di conoscere Brown. Non perché lo avesse già visto, no. I tratti del viso non gli dicevano nulla. La faccia larga di un uomo in salute, piuttosto sanguigno, con i capelli rossi e un po' radi, i baffetti tagliati corti, i grandi occhi chiari. Ma c'era qualcosa nell'aspetto, nell'espressione che ricordava proprio Magret. Quel modo di tenere le spalle un po' curve, quello sguardo esageratamente calmo, quella piega delle labbra a Bonaria e al tempo stesso ironica. Non era più un cadavere di nome Brown, era un uomo che il commissario aveva voglia di conoscere meglio e che lo incuriosiva. Ancora un po' di whisky? Non è male? Boutique scherzava. Rimase sconcertato nel vedere che Magret non reagiva più alle sue battute e si guardava intorno con aria assente. Possiamo offrirne un bicchiere al vetturino? No, andiamocene via. Ma non vuol visitare la casa? Un'altra volta. Voleva visitarla da solo, e non con la testa che gli ronzava per via del sole. Mentre tornavano in città Magret rimase in silenzio. Rispondeva all'ispettore soltanto con ceni del capo, e questi si chiedeva se non lo avesse urtato in qualche modo. Vedrà la città vecchia, il carcere è proprio vicino al mercato, ma è soprattutto di mattina che bisogna... A quale albergo? Chiesi il vetturino voltandosi. Preferisci un albergo in pieno centro? Domandò Boutique. Mi lasci pure qui, questo andrà benissimo. Era una specie di pensione familiare, a metà strada fra Cap d'Antibia e la città. Non viene al carcere stasera? Magari domani. Vuole che passi a prenderla? Se invece dopo cena voglia di andare al casino di Juan Le Pen potrei... No, grazie, ho sonno. Non aveva sonno, ma non si sentiva in forma, aveva caldo ed era sudato fradicio. Quando fu nella sua stanza, che dava sul mare, cominciò a riempire la vasca, ma poi cambiò idea e uscì con la pipa in bocca e le mani in tasca. Aveva intravisto i tavolini bianchi della sala da pranzo, i tovaglioli piegati a ventaglio nei bicchieri, le bottiglie di vino ed acqua minerale, la cameriera intenta a spazzare. Brown è stato ucciso con una coltellata alla schiena e le sue due donne hanno tentato di fuggire con il denaro. Tutto era ancora molto vago. Sopra pensiero, Magre si soffermò a guardare il sole che si tuffava lentamente nel mare dalla parte di Nizza, dove la Promenade des Anglais disegnava una lunga linea bianca. Poi fissò le montagne con le cime ancora coperte di neve. Dunque, a sinistra Nizza a 25 km, a destra Cannes a 12 km, la montagna dietro e il mare davanti. Cominciava a farsi un'idea chiara di un mondo che aveva come centro la villa di Brown e delle sue donne. Un mondo traboccante di sole, di mimose fragranti e di fiori dal profumo dolciastro, di mosche impazzite, di auto che scivolavano sull'asfalto molle. Non se la sentiva di camminare fino al centro di Antibes distante appena un chilometro. Tornò al svolbergo, l'hotel Baccon, telefonò al carcere e chiese di parlare con il direttore. Il direttore è in ferie. E il vice direttore? Non esiste un vice direttore, ci sono solo io. E allora faccia subito accompagnare le due donne alla villa, per favore. Anche il guardiano del carcere, all'altro capo del filo doveva essere estordito dal sole, o forse aveva bevuto qualche perno di troppo. Fatto sta che si dimenticò di chiedergli una richiesta ufficiale per iscritto. D'accordo, ma poi ce le rimanda? Magre sbadigliò, si stirò, caricò di nuovo la pipa, ma questa volta aveva un gusto diverso dal solito. Brown è stato ucciso e le sue due donne? Si avviò a piedi lentamente verso la villa. Rivide il punto in cui l'auto era andata a sbattere sugli scogli, gli venne quasi da ridere. Era esattamente il genere di incidente che capita a un guidatore alle prime armi, qualche sbandamento prima di andare dritto e poi diventa impossibile curvare. Il macellaio che sopraggiunge alle spalle nella semioscurità? Le due donne che si mettono a correre con le valigie troppo pesanti ne lasciano una per strada? Passò una limousine guidata dall'autista. Sul sedile posteriore il commissario distinse un viso dai tratti asiatici. Il mara già senza dubbio. Il mare era rosso e azzurro con una sfumatura di arancione. Si accendevano le prime lampade, ancora pallide nella luce del tramonto. Maigret, solo in quel vasto scenario, avanzò verso il cancello della villa come un uomo che rientri nella propria casa, girò la chiave nella serratura, lasciò su chiuso il cancello e salì i gradini della scala esterna. Gli alberi erano pieni di uccelli. La porta emise un cigolio che doveva essere familiare a Brown. Sulla porta Maigret cercò di analizzare l'odore. Ogni casa infatti ha un odore tutto suo. Lì dominava un profumo molto forte, sicuramente di muschio, poi un tanfo di sigaro freddo. Accese la luce e andò a sedersi nel salotto, accanto alla radio e al grammofono, nella poltrona che doveva essere quella preferita da Brown, visto che era la più malandata. Lui è stato ucciso e le due donne? La luce era debole, ma il commissario notò una lampada dall'enorme paralume di seta rossa collegata a una presa di corrente. Quando l'accese, la stanza sembrò improvvisamente animarsi. Durante la guerra ha svolto degli incarichi per i servizi segreti. Lo sapevano tutti. Non a caso i giornali locali che Maigret aveva letto in treno davano grande risalto alla notizia. Per il pubblico lo spionaggio è una cosa misteriosa e piena di fascino. Perciò si leggevano molti titoli idioti del tipo «un caso internazionale», «un secondo caso Kotyupov», «un dramma dello spionaggio». Qualche giornalista credeva di riconoscere la mano della cieca, qualcun altro in metodi dell'intelligent service. Maigret si guardò attorno con la sensazione che ci fosse qualcosa di sgradevole. D'un tratto capì. Quello che raggerava l'ambiente era la grande vetrata dietro cui ristagnava la notte. Si alzò e andò a chiudere le tende. Così va meglio. Una delle due donne stava seduta su quella poltrona, certo con un lavoro di cucito. E infatti su un tavolino c'era un ricamo. L'altra in quell'angolo. E in quell'angolo c'era un libro. Le passioni di Rodolfo Valentino. Ormai mancano soltanto Gina e sua madre. In lontananza si udiva appena il leggero frusciare dell'acqua sugli scogli del litorale. Maigret guardò di nuovo la fotografia che portava la firma di un fotografo di Nizza. Non vogliamo grane. In altre parole scoprirà al più presto la verità per metter fine alle fantasie dei giornalisti e della gente. Si sentì un rumore di passe sulla ghiaia, poi il suono grave e gaio di un campanello. Maigret andò ad aprire e nell'oscurità intravide due figure femminili e accanto a loro un uomo col che pì. Lei può andare, mi assumo io la responsabilità. Prego, signore. Sembrava che stesse ricevendo degli ospiti. Non riusciva ancora a distinguere i loro visi, ma riconobbe immediatamente l'odore di muschio. Spero che si sia finalmente chiarito, cominciò una voce un po' rauca. Un momento. Entrate, prego, mettetevi comode. Le due donne entrarono nella stanza illuminata. La madre aveva il viso pieno di rughe, coperto da uno strato compatto di trucco. Ritta in piedi al centro del salotto si guardava intorno come per controllare che non mancasse nulla. L'altra, più diffidente, osservava Maigret e intanto si sistemava le pieghe del vestito accennando un sorriso che voleva essere seducente. È vero che l'hanno fatta venire appositamente da Parigi? Toglietevi il cappotto, prego, accomodatevi al vostro solito posto. Le due donne sembravano piuttosto perplesse, si sentivano come delle strane nella propria casa e temevano una trappola. Faremo una chiacchierata noi tre. Lei sa qualcosa? Era stata la figlia a parlare e la madre la interruppe in tono brusco. Attenta Gina! Maigret, a dire il vero, non riusciva neppure adesso a prendere le cose sul serio. La vecchia, nonostante il trucco, era davvero orripilante. E la figlia, con le sue forme piene e un po' troppo abbondanti, modellate dal vestito di seta scura, sembrava una brutta coppia della donna fatale. E quell'odore, quell'odore di muschio che tornava a rendere irrespirabile l'aria della stanza, sembrava di essere nella portineria di un piccolo teatro. Nulla di drammatico o di misterioso. La madre che ricamava tenendo d'occhio la figlia e la figlia che leggeva le avventure di Rodolfo Valentino. Maigret, che si era sistemato di nuovo nella poltrona di Brown, le fissava con uno sguardo privo di espressione, chiedendosi con un certo fastidio. Come diavolo ha fatto quell'animale di Brown a vivere per dieci anni con due donne simili? Dieci anni! Lunghe giornate con il sole sempre uguale, il profumo delle mimose e sotto le finestre l'ondeggiare di quell'immensità azzurra. Dieci anni di serate tranquille, interminabili, appena increspate allo sciabordio di un'onda sugli scogli, con quelle due donne, la madre nella sua poltrona, la figlia accanto alla lampada col paralume di seta rosa, e rigirava meccanicamente fra le mani la fotografia di quel Brown che aveva la faccia tosta di assomigliargli. Capitolo secondo. Parlatemi di Brown. Che cosa faceva di sera Brown? Maigret, seduto con le gambe accavallate, guardava infastidito la vecchia che cercava di recitare la parte della signora distinta. Uscivamo pochissimo. Di solito mia figlia leggeva, mentre io... Parlatemi di Brown. E lei risentita. Non faceva niente. Ascoltava la radio, disse Gina con un sospiro, assumendo una posa languida. Amo la vera musica quanto detesto. Parlatemi di Brown. Era in buona salute? Se mi avesse dato ascolto, cominciò la madre, non avrebbe mai sofferto di fegato né di reni. Un uomo dopo la quarantina... Maigret aveva l'espressione di chi è costretto ad ascoltare un imbecille che si diverte a raccontare vecchie barzellette e scoppi a ridere in continuazione. Erano veramente ridicole tutte due, la vecchia con la sua aria altezzosa, l'altra con quelle pose da Florida o da Lisca. Avete detto che quella sera Brown è tornato a casa in macchina, ha attraversato il giardino ed è caduto sulla scala esterna. Come se fosse ubriaco fradicio, sì, gli ho gridato dalla finestra che non l'avrei mai fatto entrare in casa in quello stato. Tornava spesso ubriaco? E di nuovo la vecchia. Lei non può immaginare che pazienza abbiamo avuto noi durante i dieci anni che... Tornava spesso ubriaco? Ogni volta che faceva una delle sue fughe o quasi, noi le chiamavamo novene. E faceva spesso delle novene? Megre non riuscì a trattenere un sorriso compiaciuto. Dunque Brown non aveva trascorso tutto il suo tempo per dieci anni in compagnia di quelle due. Più o meno una volta al mese. E quanto duravano? Stava via tre o quattro giorni, a volte di più. Tornava sudicio, pieno d'alcol fino al collo. E ciò nonostante voi lo lasciavate andare via di nuovo? Un attimo di silenzio. La vecchia si rigidì e fissò il commissario con uno sguardo tagliente. Eppure immagino che voi due aveste una certa influenza su di lui, no? Doveva pure andare a procurarsi del denaro. E lei non poteva accompagnarlo? Gina si alzò. Poi con un gesto che rivelava stanchezza sospirò. Com'è penoso tutto questo? Le dirò la verità, signor commissario. Non eravamo sposati. Anche se William mi ha sempre trattata come se fossi sua moglie, al punto da far vivere la mamma con noi. Per la gente ero la signora Brown, altrimenti non avrei accettato. E io neppure, precisò l'altra. Certo non è esattamente la stessa cosa. Non voglio parlare di William. Il fatto di non essere sposati mi pesava solo per la questione del denaro. Era ricco? Non lo so. Non sa neanche dove teneva i suoi soldi? Per questo ogni mese lo lasciava andare in cerca di quattrini? Ho tentato di seguirlo, lo ammetto. Era mio diritto, no? Ma lui prendeva delle precauzioni, se ne andava via in macchina. Finalmente Megre si sentiva a proprio agio. Cominciava perfino a divertirsi. Si era riconciliato con quel burlone di Brown, che pur vivendo in compagnia di due megere, era riuscito per dieci anni a tener loro nascosta la fonte dei suoi redditi. E di solito portava a casa molto denaro? Quanto bastava appena per un mese, duemila franchi. Già dal quindici bisognava stare attenti a ogni spesa. Ecco il punto nevralgico. Al solo pensiero si rodevano dalla rabbia tutte e due. Perbacco, via via che i soldi diminuivano, sicuramente osservavano William con inquietudine, chiedendosi quando sarebbe partito per la prossima novena. Non potevano certo dirgli, allora non vai a fare un po' di baldoria? Si limitavano a qualche allusione. Maigret si immaginava benissimo la scena. A proposito, chi amministrava il denaro? La mamma, disse Gina. Era lei che preparava la lista della spesa? Certo, e cucinava anche. Non c'erano abbastanza soldi per una domestica. Ecco il trucco. Negli ultimi giorni servivano a Brown dei pasti immangiabili, miserabili. E alle sue proteste replicavano. Con i soldi che ci restano possiamo permetterci solo questo. Forse qualche volta si faceva quasi pregato. O forse non vedeva l'ora di andarsene. A che ora usciva, di solito? Non c'era un'ora precisa. Credevamo che fosse in giardino o magari in garage a lavare la macchina. All'improvviso sentivamo il motore. E lei ha cercato di seguirlo con un taxi? Una volta ne ho tenuto uno parcheggiato a cento metri da qui per tre giorni. Ma già ad Antibou William ci aveva seminati nelle stradine. Però sono riuscita a scoprire dove teneva la macchina. In un garage di Cannes. La lasciava là per tutto il tempo che stava via. Quindi è possibile che prendessi il treno per Parigi o per qualche altra località? È possibile. Ma è anche possibile che rimanesse da queste parti? Strano però che nessuno l'abbia mai incontrato. Ed è morto tornando da una novena? Sì, era via da sette giorni. E gli avete trovato addosso del denaro? 2.000 franchi, come sempre. Vuol sapere cosa penso? Intervenne la vecchia. William doveva avere una rendita molto più consistente. Quattro, forse 5.000 franchi. Ma preferiva spendersi il resto da solo. E noi, invece, ci costringeva a vivere con una somma irrisoria. Maigrestene stava sprofondato con aria beata nella poltrona di Brown e via via che l'interrogatorio andava avanti, il sorriso che gli aleggiava sulle labbra si accentuava. Era un tipo violento? Lui? Era una pasta d'uomo. Un momento. Con il vostro aiuto vorrei ricostruire l'andamento di una giornata. Chi si alzava per primo? William. Dormiva quasi sempre sul divano dell'ingresso. Lo sentivamo andare su e giù fin dalle prime ore del mattino. Gli ho detto mille volte... Senta, il caffè lo preparava lui? Sì, quando scendevamo verso le 10 sul fornello c'era del caffè, ma era freddo. E Brown? Faceva qualche lavoretto, in giardino, nel garage, oppure si sedeva di fronte al mare. Poi arrivava l'ora di andare a far la spesa e tirava fuori da macchina. Ecco un'altra cosa che non sono mai riuscita a ottenere da lui, che si vestisse prima di accompagnarci a fare la spesa. Usciva sempre con il pigiama sotto la giacca, in pantofole, tutto spettinato. Andavamo ad Antibes, lui ci aspettava davanti ai negozi. E una volta tornato a casa si vestiva? A volte sì, a volte no. Gli capitava di rimanere anche 4 o 5 giorni senza lavarsi. Dove pranzavate? In cucina. Quando non si ha la domestica non ci si può permettere di sporcare tutte le stanze. E nel pomeriggio? Ma certo, le due donne facevano la siesta, poi verso le 5 ricominciavano a gironzolare per la casa in pantofole. Litigavate spesso? Quasi mai. Ma se gli si diceva qualcosa reagiva con un silenzio davvero insolente. Maigret non sorrideva più, cominciava a sentirsi pienamente solidale con quel bel tipo di Brown. E poi è stato assassinato, potrebbero averlo colpito mentre attraversava il giardino, però voi avete notato delle macchie di sangue nella macchina. Che interesse avremmo a mentire? Naturalmente, dunque è stato ucciso in qualche altro posto, o meglio ferito. E invece di andare da un dottore o al commistariato è venuto a morire qui. Avete portato dentro il corpo? Non potevamo certo lasciarlo fuori? E ora ditemi perché non avete avvertito la polizia? È chiaro che avevate le vostre buone ragioni. La vecchia balzò in piedi e la sua risposta fu categorica. Sì signore, e gliele spiego subito, tanto prima o poi dovrà sapere lo stesso. Brown si era sposato tempo fa in Australia. Lui era australiano, infatti. La moglie è ancora viva. Ha sempre rifiutato il divorzio, e ha ragion veduta. Ed è colpa sua se adesso noi non viviamo nella villa più bella della costa azzurra. L'avete mai vista? No, non ha mai lasciato l'Australia, ma ha saputo manovrare così bene che è riuscita a far sottoporre il marito a curatela. In questi ultimi dieci anni siamo noi che abbiamo vissuto con lui, che ci siamo occupati di lui, che lo abbiamo consolato. Ed è grazie a noi che si aveva anche qualcosa da parte. Eppure se... Se la signora Brown avesse saputo della morte di suo marito avrebbe fatto sequestrare tutto qui. Proprio così ci saremmo sacrificate per niente. E non solo. Io non sono priva di mezzi. Mio marito era nell'esercito e io percepisco ancora una modesta pensione. In questa casa ci sono molte cose che mi appartengono. Ma davanti alla legge quella donna ha tutti i diritti e ci avrebbe tranquillamente messi alla porta. Per questo eravate incerte sul da farsi. E avete valutato i proi contro per tre giorni, con il cadavere qui in casa, magari disteso sul divano dell'ingresso. Per due giorni. Il secondo giorno lo abbiamo seppellito. Da sole. Poi avete preso le cose più preziose che c'erano e... Ma dove volevate andare? In qualunque posto, a Bruxelles o a Londra. Lei aveva già guidato qualche volta, chiese Megre e a Gina. Mai. Però mi era già capitato di mettere la macchina nel garage. Un gesto eroico, insomma. Quella fuga aveva qualcosa di grottesco, con il cadavere nel giardino, le tre pesanti valigie e l'auto che sbandava. Megre cominciava ad averne abbastanza di quell'ambiente, dell'odore di muschio e della luce rossastra diffusa dal paralume. Posso dare un'occhiata alla casa? Le due donne avevano ritrovato la loro disinvoltura e il loro sussiego. Può anche darsi che avessero frainteso l'atteggiamento di quel commissario, che affrontava la situazione con tanta semplicità e dava perfino l'impressione di trovare tutto perfettamente naturale. Ci scusi, c'è un po' di disordine. Altro che disordine, era ben peggio, un vero e proprio letamaio. Nonostante le aspirazioni borghesi, nonostante l'arredamento ridondante e pretenzioso, quella casa faceva pensare a una tana in cui le bestie vivano nel loro tanfo in mezzo agli avanzi di cibo e alle deiezioni. Nell'ingresso, appeso a un attaccapanni, c'era un vecchio cappotto di William Brown. Maigret frugò nelle tasche e vi scovò un paio di guanti piuttosto logori, una chiave e una scatola di mentine. Gli piacevano le mentine? Quando aveva bevuto, perché non ce ne accorgessimo dall'alito? Il dottore gli aveva proibito di bere whisky. Dovevamo tenere nascosta la bottiglia. Sopra l'attaccapanni c'era una testa di cervo con lunghe corna e un po' più in là, su un tavolino di vimini, perfino un vassoio d'argento per i biglietti da visita. Indossava questo cappotto? No, si era messo l'impermeabile. Le imposte della sala da pranzo erano chiuse. La stanza veniva utilizzata solo come rimessa e il pavimento era in gombro di nasse per la pesca dei crostacei. Evidentemente Brown andava a pesca. Poi la cucina, dove i fornelli non erano mai stati accesi. Veniva usato soltanto un fornellino a spirito. Lì accanto, 50 o 60 bottiglie d'acqua minerale vuote. E sa, da queste parti l'acqua è troppo calcarea, quindi... La scala era ricoperta da una logora passatoia, fissata con asticelle di ottone. Bastava seguire l'odore del muschio per arrivare alla camera di Gina. Niente stanza da bagno e niente toilette. Sul letto sfatto, un mucchio di vestiti gettati alla rinfusa, segno che Gina aveva fatto una cernita per portar via solo i migliori. Maigret preferì non entrare nella camera della vecchia. Siamo partite così in fretta. La casa è in uno stato. Sono davvero mortificata. Verrò ancora a farvi visita. Allora siamo libere? Intendo dire che non tornerete in carcere, almeno per il momento. Ma se cercate di lasciare Antib? No, di certo. Mentre lo accompagnavano alla porta, la vecchia si ricordò all'improvviso delle buone maniere. Posso offrirle un sigaro, signor commissario? Gina si spinse anche un po' più in là. Doveva pur conquistarsi la simpatia di un uomo così influente. Prenda pure tutta la scatola. William non potrà più fumarli. Strabiliante. Una volta fuori, Maigret prova come un senso di ebbrezza. Aveva voglia di ritere al tempo stesso di stringere i denti. Superato il cancello, si voltò. La villa, bianchissima nel verde degli alberi, faceva un'impressione del tutto diversa. La luna sembrava posata sul tetto. A destra il mare luccicante e le mimose che stormivano. Con l'impermeabile sul braccio, Maigret tornò all'hotel Baccon senza pensare a nulla, in preda a sensazioni confuse, sgradevoli e insieme comiche. Bel tipo qua, William. Era tardi. Nella sala da pranzo non c'era più nessuno, tranne una cameriera che aspettava leggendo il giornale. In quel momento Maigret si accorse di aver preso, anziché il suo, l'impermeabile di Brown, lurido e pieno di macchie d'olio e di morchia. Nella tasca sinistra c'era una chiave inglese, nella destra una manciata di monete e alcuni gettoni quadrati di metallo con impressa una sigla. Quel tipo di gettoni che si usano per le slot machine poste sul bancone dei piccoli bar. Ce n'era una decina. Pronto? Sono l'ispettore boutique. Vuole che venga a prenderli in albergo? Erano le nove del mattino. Alle sei Maigret aveva aperto la finestra, poi aveva ripreso a dormire in modo intermittente e voluttuoso, avvertendo davanti a sé la presenza del Mediterraneo. Per fare cosa? Non vuole vedere il cadavere? Sì, no, magari nel pomeriggio. Mi ritelefoni all'ora di pranzo. Non si sentiva ancora del tutto sveglio. In quell'aria mattutina gli avvenimenti del giorno prima gli sembravano quasi irreali. Le due donne gli tornavano alla mente come un incubo confuso. Loro certamente non si erano ancora alzate. E se Brown fosse stato vivo sarebbe stato lì a trafficare in giardino o in garage, tutto solo e in pigiama, con il caffè ormai freddo sul fornello spento. Mentre si faceva la barba, scorse i gettoni sul caminetto. Dovette fare uno sforzo per ricordarsi che cosa avevano a che fare con quella storia. Brown è andato a fare la sua novena ed è stato ucciso, o prima di risalire in macchina o in macchina, o mentre attraversava il giardino, o forse in casa. Stava finendo di radersi la guancia sinistra quando borbottò. Certo, Brown non frequentava i piccoli bar di Antibes, me l'avrebbero detto. D'altra parte Gina aveva scoperto che teneva la macchina in un garage di Cannes. Un quarto d'ora dopo telefonò alla polizia di Cannes. Commissario Maigret della polizia giudiziaria, potete procurarmi l'elenco dei bar che hanno una slot machine? Non ce ne sono più, sono state soppresse per decreto del prefetto circa due mesi fa. Non ne troverà più sulla costa azzurra. Maigret chiese alla padrona dell'albergo dove poteva trovare un taxi. Dove vuole andare? A Cannes. Allora non le serve il taxi? C'è un autobus ogni tre minuti da Plasmasé. L'informazione era esatta. Nel sole del mattino la Plasmasé era ancora più allegra del giorno prima. Certo Brown passava di là quando accompagnava le sue due donne a fare la spesa. Maigret prese l'autobus. Mezz'ora più tardi era a Cannes e si dirigeva verso il garage che gli avevano indicato, dalle parti della Croisette. Intorno a lui tutto era bianco. Immensi alberghi bianchi, negozi bianchi, pantaloni bianchi e vestiti bianchi, vele bianche sul mare. Si aveva l'impressione che la vita non fosse altro che uno spettacolo, un fantasmagorico musical tutto bianco e azzurro. È qui che il signor Brown lasciava la sua macchina? Ci siamo. Cosa intende dire? Che avrò delle seccature. L'ho pensato subito quando ho letto che era stato ucciso. È qui, sì. Non ho niente da nascondere. Portava l'auto di sera e veniva a riprenderla a otto o dieci giorni dopo. Ubriaco fradicio? Come al solito, certo. E dopo dove andava, lo sa? Quando, dopo avermi lasciato la macchina? Non ne ho la minima idea. La faceva lavare e controllare? Niente di niente. Era un anno che non cambiava l'olio. Che cosa pensa di lui? Il garagista alzò le spalle. Niente. Un tipo strano? Ce ne sono tanti qui di tipi strani che ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. Nessuno li nota più. Senta questa. Proprio ieri una ragazza americana è venuta a chiedermi di farle la carrosseria della macchina a forma di cigno. Visto che paga. Non gli rimaneva che la pista delle slot machine. Maigret entrò in un bar vicino al porto, frequentato solo dai marinai degli yacht. Non avete una slot machine? Le hanno vietate un mese fa. Tra poco ce ne consegneranno una di un nuovo tipo e fra due o tre mesi vieteranno anche quella. Non ce ne sono più da nessuna parte? Il padrone non disse né sì né no. Cosa prende? Maigret prese un vermouth. Guardò gli yacht allineati nel porto, quindi i marinai che portavano il nome della loro barca ricamato sul maglione. Lei non conosceva Brown? Quale Brown? Quello che è stato ucciso? No, non è mai venuto qui. Dove andava? Un gesto vago. Il padrone si allontanò per servire un altro cliente. Faceva caldo, si era solo amarso ma la pelle era velata di sudore e già odorava di estate. Ho sentito parlare di lui ma non mi ricordo da chi, venne a dirgli il barista con una bottiglia in mano. Non importa, quello che sto cercando è una slot machine. Durante le sue novene Brown portava l'impermeabile ed era molto probabile che quando tornava a casa le due donne gli frugassero nelle tasche. Quei gettoni dunque li aveva presi durante l'ultima novena. Era tutto così vago, inconsistente. E poi c'era un sole che faceva venire voglia a Maigret di sedersi come gli altri a un tavolino all'aperto e di starsene lì a guardare le barche che oscillavano appena sull'acqua calma del mare. Passavano tram dai colori chiari, belle macchine. Scoprì la strada dei negozi parallela alla Croisette. Una cosa è certa, burbottò Maigret, se Brown faceva le sue novene a Cannes, non veniva qui. Continuava a camminare, fermandosi di tanto in tanto in un bar. Beveva un vermo e parlava delle slot machine. È sempre la stessa storia. Ogni tre mesi le sequestrano. Poi ne arriva un altro modello e per altri tre mesi possiamo stare tranquilli. Lei non conosceva Brown? Quello che è stato assassinato? La solita solfa. Era passato mezzogiorno e i raggi del sole cadevano a picco sulle strade. Maigret aveva una gran voglia di avvicinarsi a un vigile come un turista in vena di far Baldoria e chiedergli dov'è che si va per divertirsi? Se lo avesse visto la signora Maigret avrebbe notato che aveva gli occhi un po' troppo lucidi per via di tutti quei vermut. All'angolo di una strada svoltò, poi svoltò ancora. Ed un tratto gli sembrò di non essere più a Cannes, coi suoi grandi palazzi bianchi sotto i raggi del sole, ma in un mondo nuovo, fatto di vicoli larghi sì e no un metro e di biancheria stesa su fili di ferro tra una casa e l'altra. A destra un'insegna, Ovre Maren, a sinistra un'altra, Liberty Bar. Maigret entrò nel primo dei due locali e in piedi davanti al banco ordinò un vermut. Guarda un po', credevo ci fosse una slot machine. Infatti c'era. Si sentiva la testa pesante, le gambe stanche a forza di girovagare per la città. Eppure in certi bar ce ne sono ancora. Incerti, sì, brontolò il cameriere pulendo il banco con uno strofinaccio. C'è sempre chi riesce a farla franca? Ma sono fatti loro, non le pare? E rispondendo a un'altra domanda di Maigret lanciò un'occhiata in direzione della strada. Due franchi e venticinque, non ho il resto. Allora il commissario entrò nel Liberty Bar. Capitolo terzo. La figlioccia di William. Il bar era vuoto. Era un locale piccolo che misurava non più di due metri di larghezza per tre di lunghezza. Bisognava scendere due gradini perché era in un seminterrato. Un bancone stretto, uno scaffale con una dozzina di bicchieri, la slot machine e due tavoli. In fondo alla stanza una porta vetri con tendine di tulle, dietro le quali si intravedevano delle teste che si muovevano. Ma nessuno si alzò per accogliere il cliente. Una voce femminile gridò. Cosa vuole? E Maigret entrò. C'era un altro gradino e la finestra a livello del cortile era quasi una fessura. Nella luce incerta il commissario vide tre persone sedute intorno a un tavolo. La donna che aveva gridato continuava a mangiare e intanto lo guardava nello stesso modo in cui lui era solito guardare gli altri, con calma, senza lasciarsi sfuggire nulla. Alla fine, sempre tenendo i gomiti sul tavolo, sporse il mento per indicare uno sgabello e sospirò. Ce ne ha messo di tempo. Accanto a lei c'era un uomo che Maigret vedeva solo di spalle. Indossava un uniforme da marinaio, pulitissima, da cui sporgevano appena i polsini della camicia. I capelli chiari erano tagliati corti sulla nuca. «Mangia pure con calma», gli disse la donna. «Non è niente». All'altra estremità del tavolo, infine una terza persona, una ragazza con la carnagione scura e dei grandi occhi che fissavano megre pieni di diffidenza. La vestaglia le lasciava scoperto tutto il seno sinistro, ma nessuno ci faceva caso. «Si sieda, prego. Se non le spiace continuiamo a mangiare». Poteva avere quarantacinque o cinquant'anni, forse di più, difficile a dirsi. Era grassa, sorridente, sicura di sé. Si intuiva che non aveva paura di niente, che ne aveva viste e sentite passate di tutti i colori. Le era bastato un solo sguardo per capire chi era Maigret e cosa era venuto a cercare. Non si era neppure alzata. Si mise a tagliare delle grosse fette da un cosciotto d'agnello che il commissario fissò per un attimo incuriosito, poiché raramente ne aveva visti di così grassi e succulenti. «Allora, lei è di Nizza o di Antibes? Non l'ha mai vista? Polizia giudiziaria di Parigi. Ah!» E quel «à» voleva dire che lei capiva la differenza ed era perfettamente consapevole del rango del visitatore. «Allora è vero? Che cosa? Che William era un personaggio importante o qualcosa del genere. Adesso Maigret vedeva il marinaio di profilo. Non era un marinaio qualunque. Il tessuto dell'uniforme era di ottima qualità. Portava galloni dorati e sul berretto lo stemma di un club. Sembrava seccato di trovarsi lì e mangiava guardando fisso nel piatto. Chi è? Noi lo chiamiamo Jan, ma non so il suo vero nome. Fa lo steward a bordo dell'Ardena, uno yacht svedese che ogni tanto passa l'inverno a Cannes. Jan è il capo cameriere. «Vero Jan?» «Il signore è della polizia. Ti ho già raccontato la storia di William.» L'altro accennò di sì con il capo, ma con l'aria di chi non ha capito granché. «Dice di sì, ma non ha capito bene quello che gli ho detto», commentò la donna senza curarsi del marinaio. «Non riesce a imparare il francese. È un bravo ragazzo. Al suo paese ha moglie e due bambini. Fa vedere la foto, Jan.» «Foto, sì.» L'uomo prese una fotografia dalla tasca del giubbotto. Ritraeva una giovane donna seduta davanti a una porta e due bimbi piccoli che giocavano accanto a lei nell'erba. «Sono gemelli?» spiegò la padrona. «Ogni tanto Jan viene a mangiare qui perché si sente come in famiglia. È lui che ha portato la carne e le pesche.» Maigret guardò la ragazza, che non si preoccupava minimamente di coprirsi il seno. «E lei?» «È Sylvie, la figlioccia di William.» «La figlioccia?» «Oh, non in chiesa. Non era il suo padrino di battesimo.» «Ma sei poi battezzata, Sylvie?» «Certo.» Continuava a guardare Maigret con diffidenza, mangiando lentamente, senza appetito. William le era affezionato. Lei gli confidava i suoi guai. Lui la consolava. Maigret si era seduto su uno sgabello, con i gomiti sulle ginocchia e il mento fra le mani. La donna, intanto, stava preparando un'insalata all'aglio che aveva l'area di un autentico capolavoro. «Lei ha già pranzato?» Il commissario mentì. «Sì, io...» «Altrimenti lo dica pure. Qui non si fanno complimenti, non è vero, Jan?» «Ma lo guardi. Dice di sì e non ha capito niente. Quanto mi piacciono questi ragazzi del nord!» Assaggiò l'insalata e aggiunse un filo d'olio d'oliva dal profumo fruttato. Sul tavolo, che non sembrava molto pulito, non c'era la tovaglia. Dalla cucina partiva una scala che portava probabilmente a un mezzanino. In un angolo, una macchina da cucire. Il cortile era pieno di sole, tanto che la finestrella si stagliava come un rettangolo accecante e per contrasto si aveva l'impressione di trovarsi in una fredda semi-oscurità. Chieda pure. Non ho segreti per Sylvie. Quanto a Jan. È da molto che gestisce questo bar? Da 15 anni circa. Ero sposata con un inglese, un ex acrobata, e quindi i nostri clienti erano per lo più marinai inglesi e artisti del Varietà. Nove anni fa mio marito è annegato durante una regata. Gareggiava per una baronessa che ha tre barche e che certo lei conosce. E poi? Poi niente. Mando avanti il bar. Ha molti clienti? Non ci tengo. Più che altro sono degli amici, come Jan, come William. Sanno che sono sola e che mi piace la compagnia. Vengono qui a bere una bottiglia oppure portano uno scorfano, un pollo e io li cucino. Riempì i bicchieri e si accorse che Megret non ne aveva. «Sylvie, perché non vai a prendere un bicchiere per il commissario?» La ragazza si alzò senza aprir bocca e si diresse verso il bar. Sotto la vestaglia era nuda e ai piedi aveva solo dei sandali. Passando urtò leggermente Megret, ma non si scusò. Rimase nel bar qualche minuto e l'altra ne approfittò per mormorare a bassa voce. «Non ci faccia caso. Sylvie adorava Will. Per lei, capisce, è stato un brutto colpo. Dorme qui?» A volte sì, a volte no. «Che cosa fa?» Allora la donna guardò Megret con un'espressione di rimprovero, come se volesse dire «è da proprio lei un commissario di polizia a farmi questa domanda». E subito disse «Oh, è una ragazza tranquilla, senza grilli per la testa». William sapeva? Di nuovo quello sguardo di rimprovero. Forse si era sbagliata sul conto di Megret. Forse non aveva capito niente e bisognava spiegargli senza mezzi termini come stavano le cose. Ian aveva finito di mangiare. Voleva dire qualcosa ma esitava. La donna capì. «Sì, va pure, Ian. Torni stasera? Se i padroni vanno al casino». Il marinaio si alzò, incerto se adempiere o meno al rito abituale, ma la donna gli offrì la fronte e lui la baciò meccanicamente, arrossendo per via di Megret. Sulla porta incrociò Sylvie che tornava con un bicchiere in mano. «Te ne vai?» «Sì». Baciò anche lei sulla fronte, abbozzò un goffo gesto di saluto all'indirizzo di Megret, poi inciampò nel gradino e si gettò letteralmente nel vicolo sistemandosi il berretto. «Non è come gli altri marinai che lavorano sugli yacht. A lui non piace far baldoria, preferisce venire qui». Anche lei aveva finito di mangiare e si era messa comoda, con i gomiti sulla tavola. «Sylvie, ci porti il caffè?» I rumori della strada si sentivano appena. Senza il rettangolo luminoso della finestrella sarebbe stato difficile persino dire se fosse giorno o notte. Sul caminetto una sveglia segnava il rapido trascorrere del tempo. «Allora, cosa vuole sapere esattamente? Alla sua salute. È ancora il whisky di William. Lei come si chiama?» «Jaja. Per prendermi in giro mi chiamano Jaja la bomba», e posò lo sguardo sul seno enorme che sembrava adagiato sul tavolo. «Era da molto che conosceva William?» Sylvie era tornata al suo posto. Con il mento appoggiato al palmo della mano non staccava gli occhi da maigret, senza badare alla manica della vestaglia che era finita nel piatto. «Da sempre, direi. Ma fino alla settimana scorsa non sapevo neppure il suo cognome. Tenga presente che quando mio marito era vivo il Liberty Bar era famoso, era pieno di artisti, e questo attirava i clienti danarosi che venivano qui per vederli. Soprattutto i proprietari degli yacht, che di solito sono dei nottambuli, dei tipi originali. A quell'epoca mi ricordo che William ci veniva spesso. Portava un berretto bianco da yachtman, ed era sempre in compagnia di amici e belle donne. Erano in tanti, bevevano champagne fino all'alba e ne offrivano a tutti. Poi mio marito è morto. Ho chiuso per un mese, eravamo fuori stagione. L'inverno dopo ho dovuto passare tre settimane all'ospedale per via di una peritonite, e intanto ne avevano approfittato per aprire un altro locale proprio sul porto. «Da allora il bar non rende più, granché, e io non cerco neppure di farmi una clientela. Un giorno William è tornato, ed è stato allora che l'ho conosciuto veramente. Ci siamo ubriacati, abbiamo chiacchierato un po'. Alla fine non riusciva neanche a stare in piedi e ha dormito sul divano. Portava ancora il berretto da yachtman? No, non era più lo stesso. Aveva la sbornia triste, poi ha preso l'abitudine di venirmi a trovare ogni tanto. Lei sapeva dove abitava? No, non aspettava certo a me fargli domande, e lui non parlava mai dei fatti suoi. Si fermava qui molto tempo? Tre o quattro giorni. Portava qualcosa da mangiare, oppure mi dava dei soldi per fare la spesa. Diceva che qui si mangiava meglio che in qualunque altro posto. Maigret guardò la carne rosata del cosciotto d'agnello e i resti di quella gustosa insalata. Avevano un aspetto davvero invitante. Sylvie stava già con lei? Ma che dice? Ha soltanto ventun'anni. Come l'ha conosciuta? Vedendo che Sylvie aveva un'aria seccata, Gia Gia esclamò rivolta a lei. Dai, il commissario sa come vanno queste cose. È stato una sera che William era qui. Nel bar c'eravamo solo noi due. Sylvie è arrivata con dei tipi che aveva incontrato non so dove, commessi viaggiatori o qualcosa del genere. Erano già su di giri. Hanno chiesto da bere. Quanto a lei si capiva subito che era una novellina. Voleva portarli via prima che fossero del tutto sbronzi. Non sapeva come cavarsela. Ed è successo quel che doveva succedere. Alla fine erano così ubriachi che si sono dimenticati di lei e l'hanno piantata qui. Lei piangeva. Ci ha confessato che era venuta da Parigi per fare la stagione e non aveva neppure i soldi per pagare l'albergo. Così ha dormito con me e ha preso l'abitudine di venire qui. Insomma, borbottò Maigret, tutti quelli che entrano qui prendono questa abitudine. E la vecchia raggiante. Che ci vuol fare? È la casa del buon Dio. Qui non si fanno tante storie. Si prende la vita così come viene. Era sincera. Abbassò lentamente lo sguardo verso il petto della ragazza e sospirò. Peccato che sia così delicata di salute. Le si vedono le costole. William insisteva per pagarle un mese in un sanatorio, ma lei non ha mai voluto. Senta, lei è William. Questa volta fu Silvia a rispondere e in tono rabbioso. Mai. Non è vero. E Gia Gia spiegò sorseggiando il caffè. Non era quel genere d'uomo, soprattutto con lei. Non dico che ogni tanto. Con chi? Con altre donne. Le andava a pescare chissà dove, ma a dirado. Non ci teneva granché. A che ora è andato via venerdì? Subito dopo pranzo saranno state le due, come adesso. E non ha detto dove andava? Non lo diceva mai. Silvia era qui? Era uscita cinque minuti prima di lui. Per andare dove? Chiese Maigret alla ragazza. E lei sprezzante. Che domande. Verso il porto? È là che... La e in altri posti. Non c'era nessun altro nel bar? No, nessuno. Faceva molto caldo. Mi sono appisolato sulla sedia e ho dormito un'oretta. Però erano le cinque passate quando William Brown era arrivato ad Antib con la sua macchina. Frequentava altri bar come questo? No. E poi non esistono altri bar come questo. Non c'erano dubbi. Anche Maigret che era lì soltanto da un'ora aveva l'impressione di conoscerlo da sempre. Forse perché era così anonimo. O forse per via dell'atmosfera pigra e rilassata che vi regnava. Non si aveva la forza di alzarsi, di andarsene. Il tempo scorreva lentamente. Le lancette della sveglia avanzavano sul quadrante sbiadito e il rettangolo luminoso della finestrella diventava sempre più sottile. Ho letto i giornali. Le ho già detto che non sapevo neppure il cognome di William, ma l'ho riconosciuto dalla fotografia. Io e Silvia abbiamo pianto. Ma che diavolo ci faceva con quelle due donne? D'altra parte nella nostra posizione è meglio non immischiarsi in certe faccende, non crede? Mi aspettavo da un momento all'altro di vedere arrivare la polizia e quando lei è uscito dal bar di fronte ho subito immaginato... Parlava lentamente, riempì di nuovo i bicchieri e cominciò a bere il suo whisky a piccoli sorsi. Quello che l'ha ammazzato è un farabutto perché di uomini come William non ce ne sono molti e io me ne intendo. Non le ha mai parlato del suo passato? Lei sospirò. Allora Maigret non aveva capito che quella era proprio la casa dove non si parlava mai del passato? Tutto quello che posso dirle è che era un gentiluomo, uno che era stato molto ricco e forse lo era ancora, non so. Un tempo aveva uno yacht, un sacco di domestici. Era un tipo triste? Un altro sospiro. Non riesce proprio a capire? Lei ha visto, Ian? Direbbe che ha un tipo triste? Ma no, non è l'esempio giusto. Io? Le sembro un tipo triste? Eppure si beve, poi si dicono tante cose senza capo né coda e viene voglia di piangere. Sylvie la guardava con l'aria di biasimo. Si vedeva che lei aveva bevuto solo caffè, mentre Gia Gia era già al terzo bicchierino. Sono proprio contenta che lei sia venuto, così mi sono tolta un pensiero. Non abbiamo niente da nascondere, niente da rimproverarci, ma con la polizia non si sa mai. Guardi, se venissero, quelli di Cannes sono sicura che mi farebbero chiudere. William spendeva molto denaro? Ma allora non c'era proprio speranza di fargli capire come stavano le cose. Spendeva, sì, ma senza buttar via i soldi. Ci dava il necessario per comprare da mangiare e da bere. A volte pagava la bolletta del gas e della luce, oppure regalava a Sylvie cento franchi per comprarsi le calze. Maigre cominciava ad aver fame, e quel cosciotto succulento era proprio lì sotto il suo naso. Nel piatto ne erano rimasti due pezzi. Ne prese uno con le dita e lo mangiò, continuando a parlare come se fosse anche lui uno di casa. «Sylvie porta qui i suoi clienti?» «Ma hai? Allora sì, che mi farebbero chiudere? A Cannes ci sono tanti alberghi per queste cose», e aggiunse guardando Maigre negli occhi. «Crede davvero che siano state quelle donne a...» Ed improvviso voltò la testa, mentre Sylvie allungava il collo per guardare attraverso le tendine. Si era aperta la porta esterna. Qualcuno attraversò il bar, spinse l'altra porta e si fermò, stupito di vedere una faccia nuova. Sylvie si era alzata in piedi. Già già arrossì un po' e disse al nuovo arrivato. «Entra! È il commissario che si occupa di William!» E rivolgendosi a Maigre. «Un amico, Joseph, fai il cameriere al casino!» Lo si capiva subito dallo sparato bianco, dalla cravatta nera che Joseph portava sotto l'abito grigio e dalle scarpe di vernice. «Torno più tardi?» disse. «Ma no, entra!» L'uomo sembrava alquanto indeciso. «Passavo di qua e volevo solo farvi un saluto. Ho avuto una soffiata per la seconda corsa e...» «Lei gioca alle corse?» chiese Maigre voltandosi appena verso il cameriere. «Ogni tanto. A volte i clienti mi fanno qualche soffiata. Devo scappare!» E battei in ritirata, ma al commissario parve di cogliere un suo rapido cenno di intesa a Sylvie. La ragazza era tornata a sedersi. Già già sospirò. «Perderà un'altra volta. Non è un cattivo ragazzo!» «Devo andare a vestirmi!» disse Sylvie. Mentre si alzava, i lembi aperti della vestaglia le lasciarono scoperto quasi tutto il corpo. In lei tuttavia non c'era provocazione, solo un'assoluta naturalezza. Salì la scala fino al mezzanino e si udirono i suoi passi mentre si vestiva. Maigre ebbe l'impressione che già già tendesse l'orecchio. «A volte anche lei gioca alle corse. È quella che ci ha rimesso di più con la morte di William.» Maigre si alzò di scatto, passò nel bar e aprì la porta sul vicolo. Troppo tardi. Joseph si stava allontanando in fretta, senza voltarsi, mentre al mezzanino qualcuno chiudeva una finestra. «Che cosa le ha preso?» «Niente, un'idea.» «Ancora un bicchiere? Oppure se le piace l'agnello?» Sylvie stava già scendendo, completamente trasformata e irriconoscibile, in un tagliore blu scuro che le dava un'aria da signorina per bene. La camicetta di seta bianca rendeva davvero desiderabili i piccoli seni tremoli, che pure Maigre aveva avuto modo di osservare a lungo. La gonna le metteva in risalto il ventre piatto e il sedere ben fatto. Le calze di seta erano perfettamente tese sulle gambe. «A stasera?» Anche lei baciò Giagia sulla fronte, poi volgendosi verso Maigre rimase un attimo incerta, come se avesse voglia di uscire senza salutarlo o di buttargli una frase offensiva. Non cercava affatto di dissimulare la sua ostilità, anzi, sembrava quasi che volesse ostentarla. «Buonasera, immagino che non abbia più bisogno di me», disse in tono duro, risentito. Poi attese un istante, si allontanò con passo deciso. Giagia si mise a ridere e riempì i bicchieri. «Non ci faccia caso, sono ragazze senza testa. Vuole che le prenda un piatto così può assaggiare la mia insalata?» Il bar vuoto sul davanti della casa, con l'unica vetrina che dava sul vicolo, di sopra in cima alla scala chiocciola il mezzanino, sicuramente in disordine, la finestrella sul cortile da cui il sole si dileguava a poco a poco. Uno strano mondo, al centro del quale si trovava Maigret, seduto davanti a quel che restava di un'insalata dall'odore invitante, in compagnia di una donna grassa che quasi appoggiandosi sul seno abbondante sospirava. «Quando avevo la sua età mi facevano regare dritto, altro che…» Non c'era bisogno di precisazioni. Maigret se la immaginava perfettamente nella zona della Port Saint-Denis ou a Montmartre, con indosso un abito di seta sgargiante, mentre un amico la teneva rigorosamente d'occhio attraverso la vetrina di un bar. Al giorno d'oggi, invece, aveva fatto troppo onore alla bottiglia. Mentre guardava Maigret, le si inumidirono gli occhi e la bocca infantile fece una smorfia che preannunciava le lacrime. «Lei mi fa venire in mente William, quello era il suo posto. Anche lui, quando mangiava, posava la pipa vicino al piatto. Aveva le spalle come le sue. Sa che lei gli assomiglia?» Si limitò ad asciugarsi gli occhi, senza piangere. Capitolo IV. L'agenziana Era l'ora rosata, ambigua, in cui l'umidità del tramonto si dilegua nella frescura della notte che si avvicina. Maigret uscì dal Liberty Bar come si esce da un locale malfamato, con le mani affondate nelle tasche e il cappello calato sugli occhi. Eppure, dopo una decina di passi, sentì il bisogno di voltarsi indietro, quasi per accertarsi che l'atmosfera da cui veniva fosse reale. Il bar era davvero là, incastrato fra due case, con la sua stretta facciata dipinta di un brutto marrone e le lettere gialle dell'insegna. In vetrina c'era un vaso di fiori con accanto un gatto addormentato. Probabilmente nel retro bottega anche già già sonnecchiava, sola, accanto alla sveglia che contava i minuti. Alla fine del vicolo si rinasceva alla vita di sempre. Negozi, gente vestita normalmente, macchine, un tram, un vigile urbano. Poi, a destra, la Croisette, che a quell'ora somigliava davvero a quei disegni pubblicitari che l'ufficio del turismo di Cannes fa riprodurre sulle riviste di lusso. L'atmosfera era dolce, serena, la gente passeggiava senza fretta, le auto scivolavano silenziosamente come fossero senza motore e nel porto, sull'acqua, tanti yacht bianchi. Maigret si sentiva stanco, intontito, eppure non aveva nessuna voglia di rientrare ad Antibes. Vagava senza meta, fermandosi ogni tanto senza sapere perché e riprendendo poi a camminare in una direzione a caso, come se la parte cosciente del suo essere fosse rimasta nell'antro di Jaja, vicino alla tavola non sparecchiata dove a mezzogiorno un impeccabile steward svedese se ne stava seduto di fronte a Sylvie Seminuda. Per dieci anni William Brown aveva trascorso là parecchi giorni al mese, in un clima di calda pigrizia, accanto a Jaja che dopo qualche bicchiere si metteva a piagnucolare per poi addormentarsi sulla sedia. La genziana, perbacco! Maigret era entusiasta di aver trovato senza nemmeno accorgersene quel che cercava da un quarto d'ora. Da quando era uscito dal Liberty Bar aveva ostinatamente tentato di dare una definizione che ne cogliesse l'essenza e non si limitasse all'aspetto pittoresco, e adesso l'aveva trovata. Gli era tornata in mente la frase di un amico cui un giorno aveva offerto l'aperitivo. «Cosa prendi?» «Una genziana. Che cos'è una nuova moda?» «Non è una moda, è l'ultima risorsa dell'ubriacone, vecchio mio. Tu conosci la genziana e sai quant'è amara. E non è neppure alcolica. Beh, quando per trent'anni uno ha buttato giù liquore di ogni genere, questo è l'unico vizio che gli resta, perché solo il gusto amaro della genziana riesce ancora a stimolargli le papille. Proprio così, un luogo immune dai vizi e dalla cattiveria. Un bar dove i clienti entravano e andavano subito in cucina, accolti familiarmente da Jaja. E bevevano mentre lei cucinava. E magari facevano un salto dal macellaio vicino a comprare un pezzo di carne per il pranzo. Poi, quando Sylvie scendeva seminuda e con gli occhi pieni di sonno, la baciavano sulla fronte senza neppure lanciare un'occhiata ai suoi seniscarni. Non c'era molta pulizia, né molta luce. Non si parlava molto. La conversazione si trascinava pigramente, come del resto le persone. Il mondo esterno, con la sua agitazione, non esisteva più. Soltanto un rettangolo di sole. Mangiare, bere, sonnecchiare e bere ancora, mentre Sylvie si vestiva e si infilava le calze per andare al lavoro. A presto, padrino. Era esattamente la storia della Genziana. Quando uno ne aveva vista di tutti i colori e sperimentato ogni sorta di vizio, non gli restava come estremo rifugio che il Liberty Bar. Donne senza fascino, senza civetteria, senza passione e che non ispirano passione. Donne a cui si regalano cento franchi per le calze, a cui si dà un bacio sulla fronte quando escono e a cui si chiede quando rientrano, lavorato bene? Maigre si sentì un po' oppresso. Voleva pensare ad altro. Si era fermato davanti al porto dove, a pochi centimetri dalla superficie dell'acqua, cominciava a stendersi un leggero strato di nebbia. Aveva oltrepassato i piccoli yacht, le barche a vela da regata. A una decina di metri, su un enorme panfilo bianco che apparteneva di certo a un pascià, un marinaio stava ammainando la bandiera rossa con la mezzaluna. Proprio davanti a lui c'era uno yacht di una quarantina di metri. Maigre ne lesse il nome scritto sulla poppa a lettere dorate. Ardena. Gli era appena tornata in mente l'immagine dello svedese seduto al tavolo nella cucina di Gia Gia, quando, alzando lo sguardo, lo vide sul ponte, mentre in guanti bianchi posava su un tavolo di vimini il vassoio del tè. Il proprietario era affacciato al parapetto in compagnia di due giovani donne. Rideva mettendo in mostra dei magnifici denti. Una passerella di tre metri li separava da Maigre. Con una scrollata di spalle, il commissario vi salì e per poco non scoppiò a ridere vedendo la faccia terrorizzata dello steward. Ci sono momenti così, in cui si prende un'iniziativa non tanto per la sua reale utilità, quanto per fare qualcosa o forse per impedirsi di pensare. Mi scusi, signore. Il proprietario aveva smesso di ridere. Aspettava, rivolto verso Maigre, come pure le due donne. Un'informazione, per favore. Lei conosce un certo Brown? Ha uno yacht? Ne aveva uno, William Brown. In attesa della risposta, Maigre pensava a tutt'altro. Osservava il suo interlocutore, un uomo di circa 45 anni e molto distinto tra le due donne che gli abiti lasciavano seminude. Pensava, Brown era un tipo del genere. Anche lui si circondava di donne belle, eleganti, di quelle che curano ogni dettaglio della loro toilette allo scopo di sedurre. Per farle divertire le accompagnava nei locali notturni e offriva champagne a tutti. L'uomo rispose con un marcato accento straniero. Se si tratta del Brown che io ricordo, un tempo possedeva quel grande yacht, vede l'ultimo laggiù, il Pacific, ma è stato già venduto due o tre volte. La ringrazio. L'uomo e le sue compagne non avevano ben capito il senso della visita di Maigre. Lo guardarono mentre si allontanava e il commissario udì alle sue spalle una squillante risata femminile. Il Pacific. Nel porto c'erano solo due yacht di quella stazza e uno era quello che batteva bandiera turca. Ma il Pacific era da tempo in disarmo. In molti punti sotto la vernice scrostata si vedeva la lamiera e le parti in ottone erano ricoperte da una patina verde. Appeso al parapetto, un piccolo cartello mal ridotto con la scritta Vendesi. Era l'ora in cui i marinai degli yacht, tirati a lucido e impettiti nella loro uniforme, si avviano a gruppi verso la città come dei soldati. Quando Maigre ripassò davanti all'Ardena, sentì lo sguardo dei tre fisso su di lui e sospettò che lo steward lo stesse spiando dal ponte. Grazie. 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 Grazie.